ehi ehi mi chiamo lui mi chiamo luis è buono grazie papà allora salve a tutti io mi chiamo jack the pooper link del mio canale in descrizione tu fai così e ciao a tutti amici abbiamo venuto in questo video ragazzi allora praticamente ho visto che mettendo il nome dei mac contro te nel titolo va bene e quindi ho provo a rifarlo allora il titolo del video è me contro te mi avete spezzato il cuore cari c'è avuto un sacco di insulti e molti mi dicevano rai a non prenderlo sul serio ma io ero stra felice perché ero già consapevole che avrei fatto questo video che è successo avrei fatto tante visualizzazioni per l'esattezza sono 17.203 visualizzazioni 313 like e ben 114 dislike e più o meno 30 iscritti esatto con 171 commenti noi facciamo la recensione degli insulti su Amazon allora vuoi leggere tutti i 171 commenti e sono quelli che insultano cercheremo di non insultare troppo la gente che ci commenta ma te schifo al cazzo una ragazza senza fotoprofilo ci scrive tu sei un pezzo di merda ma tua mamma tu sei una figlia di troia vabbè ragazzi siamo gentili e dalla prossima ah 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 bellissimo ah vabbè quelli belli sono belli ok se non che Sara al gamer 2007 grazie mille faccina che ride perché non ti hanno giocato una medaglia non capiscono tutto il mio talento infatti eh lo so ah ah cuore grazie mille per l'iscrizione cuore prego hai appena chattato con una 2007 e poi un'africana ci scrive ma fai schifo il suo nome è blandine bla bla quasi omogo omogo sas no way trap is a genius but putin d'è più i tuoi commenti sono più cancri di quelli hai ragione senza la H fantastica hai ragione si anche tu check the poop per in descrizione di pul dell'orecchio cazzo allora ok se qua è bellissimo ma fai a dormire sai vai fai schifo stupido i miei contro te sono stupendi oh no ragazzi link chi è chi è d'accordo con me link e io da bravo ragazzo che sono li ho commentato con Ikea perché Ikea sono un po' quelli sai cosa mi ricorda Link eh Jack the poop per il link del canale in descrizione ah no a me ricorda Ikea ok vabbè ironico ci sono tanti ragazzi bravissimi che mi hanno aiutato a mantenere la situazione calma dicendo che ehi chi sono ironici e io ah la merenda ringrazio tutti soprattutto Corina che ha fatto cioè andiamo avanti andiamo avanti si scrive che schifo Monica Troy ma cosa che schifo ah che schifo cazzo ma sei dislessico scusatemi ragazzi ah ah tu non sai neanche parlare in inglese ma io si spero quindi quindi tacchi eh perché io ci ho messo l'h cioè io ce l'ho messo l'h ma se non sai chi è perché hai fatto questo video e questi qua me l'hanno detto in tantissimi questi commenti e io ho scritto per pura ironia e per le views booo no perché scusatemi scusatemi andiamo avanti ma fai schifo non sai fare i video vergogni ti manca se parlare in inglese e che scrivi a caso io intanto il video c'è quindi li so fare i video ma va a caccare io rido lui ride che ma che stai dicendo io metto dislike perché me contro te sono no io metto dislike fai schivo ps i love me contro te i sarebbe maiuscolo e schivo sarebbe schifo è inutile che provate a fare bilingue quando ne sapete manco una di lingua oh 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 i me contro te sono buoni fai schifo almeno ho scritto schifo giusto ma buonatale non esiste no era ironico ma perché ma fai schifo oh ho scritto giusto e siamo a due scritti giusti ok adesso su 164 siamo a due la mia schima è tutta per te fai gli altri video oh guarda lo sto facendo una adesso questo è uno vai ho riso a tre ore io quattro arianette stellina ci scrive due commenti povero come ti permette comunque sei un ricchione un ricchione chiamato 15.000 views questa è la magia dell'editing ora sono nudo ciao sofi e lui ma io non ho ma io non ho instagram mi potete salutare su youtube mi sa che hai sbagliato il canale però comunque ciao non parlo di me contro te perché io sono escrota al canale fai schifo e beh e scrotti lo siamo un po' tutti comunque io sono escrotto dai canali ma cosa c'è più mongolodi di così poi caro mio come ti vesti sei un camionista c'è per fare i video vestiti bene l'ultima cosa non insultare me contro te altrimenti io insulto te il prossimo video ti vogliono in smoking ma io ho troppo aria sei troppo aria siamo alieni siamo nel futuro io sono d'accordo con te allora questa ragazza ci dice ma poi scusa il cuore d'argilla non sai di chi è perché l'hai fatto questo video eravamo a scuola no e la prof ci ha detto fate un cuore per chi volete bene io ho detto al mio amico no lui mi ha detto a me ma facevano per i miei contro te io ho detto va bene facevano per i miei contro te l'abbiamo fatto è venuto bene l'abbiamo spedito poi arriva da loro e quella gli ho rompe e lei dice ma non l'hanno fatto apposta ma tua madre cioè l'ha fatto così l'ha fatto porca miseria vedeva che l'ha fatto apposta che sta piangendo l'abbiamo fatto per loro caso vabbè ragazzi questo video è un po' finito era ironico come anche dal scorso però non l'avevano capito e sicuramente anche in questo video arriveranno altri insulti perché non capiscono che è ironico e molto probabilmente non arriveranno neanche alla fine e comunque non sono vestito da camionista e noi ci vediamo in un prossimo video e spero che anche questo video raggiunga tanti insulti così ne faccio anche un altro e ciao facciamo la parte 2 la parte 2 a 5k insulti no vai facciamo tipo 50 insulti facciamo la seconda parte facciamo la seconda parte vai ragazzi insultate nei commenti noi ci vediamo in un prossimo video e ciao comunque ragazzi la telecamera stava su questo fornello perché non c'ho la ciabatta ciao 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 ciao